Ettore Di Ventura, sindaco di Canicattia, stasera questa riunione del GAL, gruppo di azione locale, allora quali sono le vostre aspettative? Buonasera a tutti, innanzitutto stasera noi svolgiamo, io svolgo le funzioni di padrone di casa perché ospitiamo il GAL GAL che è un importante strumento per reperire quelle fonti di finanziamento che sono assolutamente indispensabili per gli imprenditori ma anche per il settore pubblico il Comune di Canicattia ha già precedentemente deliberato l'adesione al partenariato con delibera di giunta che verrà successivamente formalizzata dal Consiglio Comunale nei prossimi giorni perché richiesta anche la delibera del Consiglio Comunale Ecco dunque voi vi sarete impegnati anche perché adesso parte la nuova programmazione e ci sono tanti fondi a disposizione da parte dell'Unione Europea Ci sono tante risorse che rappresentano un'importante boccata d'ossigeno in una situazione finanziaria nella quale si trovano non soltanto gli enti pubblici ma anche le aziende quindi favorire degli investimenti che rappresentano nuova linfa per le attività produttive Sindaco, anche il Comune di Favara fa parte del GAL Sicilia Centro Meridionale, allora quali sono le vostre aspettative? Le nostre aspettative sono quelle di mettersi subito a confronto col GAL che rappresenta una grandissima novità per il nostro Comune di potersi mettere in concertazione e quindi di far parte di tutte quelle progettualità che permetteranno a Favara di emergere ancora di più Molto lavoro è stato fatto ma molto è possibile farlo e attraverso l'aiuto del GAL entrando a far parte della stessa struttura quindi diventando soci della stessa GAL c'è la possibilità di iniziare a interloquire con tutte quelle che sono le strutture competenti per poter cercare di far arrivare più fondi possibili all'interno della nostra città e questa è la linea, noi l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, fondi europei rappresentano l'unica alternativa per poter permettere alla città di risorgere ed è un'occasione che ho l'onore di inaugurare siamo arrivati in corso d'opera quindi diamo i meriti all'amministrazione che aveva insistito per poterne farne parte ora noi ci troviamo insediati e quindi a noi spettare il compito di metterci a confronto e di iniziare a lavorare Massimo Raso, segretario provinciale della CGL di Agrigento stasera a Canicattì questa riunione del partenariato del GAL GAL è un importante strumento per lo sviluppo del territorio Sì, io chiedo che la chiave di uno sviluppo possibile di un territorio sia quella di mettere insieme le forze economiche, le forze sociali e le istituzioni è da sempre questa la chiave del successo, è da tempo dei patti territoriali che noi sosteniamo questa necessità purtroppo nel tempo gli strumenti di concertazione sono stati ritenuti via via superati o non moderni invece io ritengo che siano ancora attuali, moderni e siano davvero gli unici strumenti possibili per orientare lo sviluppo per costruirlo, per pensarlo, per farlo in modo appunto concertato e quindi armonico rispetto a un territorio quindi quella dei fondi strutturali europei è un'occasione oppure è un'occasione persa noi invece siamo per cogliere l'occasione e quindi cose come questa, strumenti come questo servono a cogliere le opportunità che ci sono Sindaco, questa prima fase del GAL Sicilia Centro-Mediterrane sta per chiudersi stasera a questo incontro con il partenariato, ci sono stati incontri, riunioni, dunque qual è il futuro secondo lei? Il futuro speriamo che possa essere soltanto un futuro positivo di sviluppo speriamo che il GAL faccia e noi ce la metteremo tutto perché faccia il suo lavoro quello di ingubatore di impresa, quello di tenere per mano una serie di iniziative economiche che riporteranno investimenti sul territorio io colgo l'occasione per dire che rispetto all'intemperio di questa di ieri e oggi a Naro in special modo la grande ne ha creato dei danni gravi chiaramente ci sono dei prodotti che sono assicurabili quindi questi non fanno parte di quelli sulla quale potremmo chiedere integrazione alla regione però ho già provveduto ad avere un incontro con il responsabile della Goldiretti, il dottore Gibbino ma anche con il responsabile del suo sindacato perché assieme si possa fare una qualche azione a sostegno di queste attività che sono state messe in ginocchio dalla Grandire io ho dato la mia disponibilità come sindaco, ritengo di parlare anche a nome dei sindaci del GAL di tutto il GAL perché se ci sarà da fare un'azione per cercare di portare sollievo a un momento a un'intemperia che sicuramente ha creato tanti danni sul territorio noi lo faremo e io in particolare lo faremo con grande disponibilità anzi chiederemo cosa fare assieme ai sindacati per poter dare aiuto a tutti i nostri agricoltori